Lev era sempre stato un favorito della sorte nel suo ambiente. Sicuramente anche voi avete persone del genere, a cui va bene letteralmente tutto. Per quanto folle possa sembrare un'impresa, se viene intrapresa da una persona come Lev, l'affare andrà sicuramente a buon fine. Costruire una sauna d'inverno e stufe d'estate? Facile. Investire tutto il patrimonio faticosamente accumulato in un'altra folle avventura? Sicuramente. Lev è arrivato al punto di aiutare persino alcuni suoi conoscenti ad arricchirsi, semplicemente perché gli stavano accanto e facevano come lui. La fortuna non solo amava Lev, lo adorava, ma, come ogni donna gelosa, non voleva condividere l'amato con nessun'altra donna. Quindi nella vita privata Lev non aveva decisamente fortuna. Così è stato fin dalla giovinezza. Quando Lizza, la sua amata Lizza, lo lasciò, Lev mise una croce sulle donne e come se tutto fosse andato storto da quel momento in poi. Se incontrava una ragazza carina e simpatica, alla fine scopriva sempre che aveva qualcun altro. O che non era così comprensiva come sembrava a prima vista. Con il miglioramento della situazione finanziaria, tutto si è complicato. Un milionario non può semplicemente registrarsi su un sito di incontri. Prima o poi, una delle potenziali cacciatrici di uomini verrà a sapere dei suoi soldi e inizierà. Gli amici, ovviamente, lo incoraggiavano, lo esortavano a non abbattersi. Ci sono tante brave ragazze in giro. Ma Lev era convinto. Poche. E tutte le brave sono sicuramente già sistemate con qualcuno. L'atteggiamento di Lev nei confronti dell'istituto del matrimonio era rispettoso. Non avrebbe mai incontrato una donna sposata. Avere un amante o un amante è come non rispettare se stessi. Con i tuoi principi. Ha osservato una volta Oleg. Caro amico e socio in affari di Lev. Così rimarrai scapolo. Lev era invece convinto che nelle sue aspettative non ci fosse nulla di soprannaturale. Voleva trovare una ragazza intelligente con i suoi interessi, adatta al dialogo. Inoltre, Lev non pretendeva che fosse una reclusa o l'anima della festa, una bellezza o una scienziata geniale. Era tutto semplice. Voleva una donna comprensiva, che sapesse sostenere una conversazione. Tutto qui. Certo, un bel aspetto sarebbe stato un bonus. Ma con gli anni e il capitale accumulato, Lev ha capito. Ora anche da una bruttina è facile fare una bella donna. Ma non hanno ancora imparato a mettere il cervello in una testa vuota. «Ecco, prima, com'era bello», lo rimproverava Oleg. «Se una donna ha i fianchi larghi, significa che avrà figli facilmente». E bastava questo. E invece no, ci servono intelligenti, comprensive. Sbuffando, l'uomo sputò da una parte. Inutile dirlo, ogni epoca ha i suoi problemi. Ma Lev era rilassato al riguardo. Se non va bene, non va bene. Forse, col tempo. Tutto cambierà. Solo una cosa rattristava l'uomo. Rimanere solo durante le feste era sempre difficile. Sembrava che con gli anni sentissi più acutamente il peso della solitudine. Quando hai 25 anni, sembra che il mondo sia ai tuoi piedi. Quando ne hai 35, è ora di comprare i plantari per questi piedi. E quando ne hai 45, era particolarmente difficile festeggiare il Natale. Nella sua famiglia molto umile e religiosa. Ha sempre significato più del Capodanno. Cos'è il Capodanno? Semplicemente un altro giro di calendario. Il 7 gennaio ha un significato profondo e sacro. I genitori di Lev erano già molto anziani. Tutte le feste a questa età diventano un peso. E a Lev era doloroso vedere la vecchiaia. Quindi non si riunivano più insieme. Il più delle volte Lev semplicemente girava tutto il giorno in macchina. Così, almeno, sei circondato da persone e la vita non sembra così disperata. Viaggiava, ovviamente, con un autista personale. L'ultima volta che si è messo al volante è stato probabilmente sette anni fa. Non che non gli piacesse, piuttosto, non era più di suo livello. Guidava e guardava fuori dal finestrino per ore. Li turbinava la neve, normale per questo periodo dell'anno. Intorno si accendevano le ghirlande. Dopotutto, è una festa. Anche dalle finestre lampeggiavano le ghirlande. Non le toglieranno presto. Le persone coglievano brevi momenti per godersi la festa. Poi tutti aspettavano le fatiche quotidiane e la grigia routine. Vai al centro di Olkowski, Boris. Lev rispose pigramente, l'autista a noi in silenzio. In inverno, vicino al centro commerciale di Olkowski non c'era niente di speciale. D'estate lì c'erano fontane, verdi, come si intuiva dal nome, boschetti di ontani. E ora c'erano silenzio e cumuli di neve alti fino alle ginocchia. Ma per qualche motivo Lev si sentì attratto proprio da lì. Caso cieco o capriccio del destino. Olkowski si trovava nel centro della città. Era intrecciato da una rete di attraversamenti pedonali. Dietro c'erano due fermate e un po', più avanti una fabbrica. Quindi la gente andava e veniva da lì con invidiabile costanza. Lev osservò attentamente. Mi chiedo che vita conducano questi uomini e queste donne. A volte gli piaceva semplicemente osservare le persone, notare alcune piccole cose dal loro comportamento. Ad esempio, una donna con un cappotto sottile, chiaramente fuori stagione, corre fuori dal centro commerciale con due borse. Probabilmente è la madre di due bambini. Nel centro commerciale non c'è un supermercato, è separato. Probabilmente sono regali. Sembra che la madre si stia privando di tutto per prolungare la festa ai bambini. Ecco una famiglia, padre, madre e due figli. Il ragazzo più grande porta una torta. Probabilmente sono andati dai nonni per Natale. Fanno bene, gli anziani devono essere rispettati. Per voi è una sciocchezza, ma loro si sentiranno utili. Improvvisamente, nel flusso di persone, Lev vide una bambina. Indossava una giacca leggera. Non basterebbe nemmeno per uscire per un paio di minuti. Una sciarpa pelosa le era legata trasversalmente sul viso. Sembrava che un vecchio gatto calvo l'avesse avvolta. La bambina stringeva tra le mani chiaramente congelate e un fazzoletto con dei fiori azzurri luminosi, visibili anche da lontano. Per qualche motivo, questa scena ricordò a Lev la trama del film Pigmalione. Solo che lì non c'era affatto una bambina, ma una giovane e bella Audrey Hepburn. E teneva in mano un mazzolino di fiori e guardava le persone da sotto le ciglia semichiuse. Solo che la bambina non guardava. Lev lo capì quando fermò la macchina e le si avvicinò. L'autista frenò bruscamente, tanto inaspettata era stata la richiesta del padrone. Lev uscì dalla macchina e si diresse verso la bambina attraverso la folla. La bambina sembrava persa, no, dimenticata, no, nemmeno così. I bambini dimenticati di solito scrutano la folla, si agitano, piangono, chiamano qualcuno. E questa bambina non chiamava, non scrutava. Era come se avesse accettato la sua situazione e stesse semplicemente aspettando che finalmente tutto finisse. E poi apparve Lev. «Ciao», disse alla bambina. Lei non capì subito che si stava rivolgendo a lei. Lev toccò delicatamente la bambina sulla spalla. Lei sussultò e alzò verso di lui gli occhi ciechi. «Oh, chiunque al suo posto si sarebbe confuso». La bambina sbatté le palpebre cieche. Se avesse visto, avrebbe guardato proprio in faccia a Lev. A vederla sembrava avesse sette anni, ed era tutto ciò che Lev poteva dire. «Ti sei persa?» La bambina scosse la testa negativamente. «Dove è tua madre?» E anche a questa domanda non rispose. «Sei qui da molto?» Lev pensò al peccato. «Forse la bambina non è ancora Maya?» Ma poi alla fine parlò. «Vivo qui». «Dove qui?» La bambina indicò vagamente con la mano questo posto, tutta la piazza davanti al centro commerciale. «Niente di concreto». Lev cercò di chiarire. «In una di queste case posso aiutarti in qualche modo?» «Non in una casa». Rispose a malincuore la bambina. «Qui. La mia casa è la strada. Dormo dietro il grande negozio, sulle tubature». Lev rimase sbalordito. «Come è possibile?» «E scusate, dove guarda la polizia». «O per caso non pattugliano più le strade?» «Io stesso ho visto di recente delle macchine con le luci lampeggianti». «E i bambini che dormono sulle tubazioni del riscaldamento non preoccupano nessuno?» «Diavolo e anche un fiocco di lato». «Come ti chiami, Rita?» La bambina sbatté di nuovo le palpebre. A causa dell'assenza congenita della vista, sembrava un po' un pesce, con i suoi occhi trasparenti. «Sai cos'è il Natale?» chiese all'improvviso Lev. La bambina scosse la testa. Incredibile, non lo sapeva nemmeno. Ogni anno, il 31 dicembre, le persone festeggiano il Capodanno. «Lo sai?» Rita alzò le spalle. Non era chiaro cosa significasse. «E dopo il Capodanno festeggiamo il Natale. È una festa davvero speciale. In realtà, ti dirò un segreto, è la vera festa. I desideri più intimi non si avverano a Capodanno, ma a Natale. Perché è un periodo magico. E gli angeli custodi e il Signore ti ascoltano. Cosa vorresti chiedere, Rita?» La bambina rifletté a lungo. Era così strano vedere il cambiamento dell'espressione sul viso, dove mancava l'elemento più vivo, lo sguardo, che si illumina e si spegne. Ma Lev era pronto a giurare che mentre la bambina pensava, l'espressione del suo viso era cambiata più volte. «Vorrei avere una casa», disse finalmente Rita. «Il Signore può esaudire questo desiderio? O chiedo troppo?» Le ultime parole della bambina, come un coltello nel cuore, colpirono Lev. «È così piccola, e già si condanna per essere troppo esigente. I bambini dovrebbero sognare in modo globale, senza limiti. Altrimenti questo mondo è semplicemente impazzito. Penso che il Signore stesso voglia tanto che tu abbia una casa. Ecco perché sono qui». Lev accarezzò delicatamente la bambina sulla cuffia. Scivolò via, scoprendo i capelli arruffati dell'uomo. «È terribile immaginare quando si è pettinata l'ultima volta. Solo l'inverno, che era nel pieno del suo svolgimento, l'ha salvata dai pidocchi. Ma per ogni evenienza sarebbe meglio controllare. Hai parlato con lui? Siete venuti a prendermi?» Gli occhi ciechi sembravano accendersi. E Lev capì che non sarebbe andato via da lì senza la bambina. «Andiamo, ci aspetta lo zio Boris». Invece di rispondere, Rita prese l'uomo per mano e, saltellando allegramente, si diresse verso la macchina. Boris, ovviamente, era sbalordito da quello che stava succedendo. Ma bisogna dargli atto che non disse una parola. Dopotutto, era solo un autista. Perché avrebbe dovuto ficcare il naso in tutto ciò? Lev era combattuto dai dubbi. Sembra che nel ventunesimo secolo non si possa semplicemente prendere un bambino dalla strada. Ci sono delle formalità da sbrigare. Ma d'altro canto, non si può neanche lasciarlo lì. E allora, lasciarlo così? Che sciocchezza! Guardò di nuovo Rita. Il suo nasino bluastro stava iniziando a scongelarsi. E la bambina aveva iniziato a piagnucolare senza sosta. Era malata? Beh, certo. Non c'era da stupirsi. Era vestita in modo decisamente fuori stagione. Alcune persone vestono persino i cani per evitare che prendano freddo. E una bambina si accontenta di una vecchia giacca strappata. Andiamo in un negozio, propose Lev. Ti troveremo qualche vestito. Non puoi andare in giro così. Rita guardò i vestiti con occhi ciechi. Come se potesse valutare il suo aspetto. Poi li toccò e arrivò a una conclusione sconfortante. Non posso andare in giro così. Boris capì tutto senza parole e svoltò nella strada più vicina verso il centro commerciale più vicino. Sì, era la cosa più semplice. Passeggiare in un enorme edificio pieno di reparti di abbigliamento. Poi Lev le avrebbe sicuramente comprato qualcosa di buono. Nel frattempo, avrebbe dovuto accontentarsi di qualcosa che le stesse bene. Signore, come ha potuto trascurare così tanto una bambina? Si indignò la commessa. A volte Lev odiava questo aspetto del nostro tempo. A tutti importava, e tutti cercavano di rimproverarlo per i suoi errori. Mi piace così com'è. La portata alla mia ex moglie. Mentì con sicurezza Lev. Lui stesso era scioccato. Ecco perché siamo venuti a scegliere dei vestiti. La ragazza alzò le sopracciglia sorpresa, poi li abbassò con aria di disapprovazione. Come vai? Che madre! Si comporterà così. È inconcepibile. Così la commessa iniziò subito a togliere le grucce dai portaabiti e a provare i vestiti a Rita. Dopo mezz'ora uscirono dal negozio. Lev con diversi sacchetti e Rita con una giacca nuova. Ora sei mio padre? Chiese all'improvviso Rita. Sembra di sì. Lev rispose con un sorriso. Non vedeva l'ora di tornare a casa, ma prima doveva passare in farmacia. Nel frattempo, Rita aveva iniziato anche a tossire. Chiamerò un medico quando arriverò. Altrimenti potrebbe prendere la polmonite. Anche se è improbabile che un medico venga dall'altra parte della città in una sera di festa. Ovviamente Lev non ci pensò. Arrivarono a casa e tutto sembrava andare bene. Ma restava una domanda irrisolta. Cosa fare della bambina? E da dove veniva? E se i suoi genitori la stessero cercando con i cani? In verità, di solito in queste situazioni in città vengono affissi degli annunci di scomparsa. Proprio il giorno prima Lev aveva trovato un volantino su un palo. Stavano cercando un uomo anziano di oltre 60 anni. Ma per qualche motivo nessuno cercava una bambina cieca. La casa di Lev non era molto grande, soprattutto per gli standard delle grandi aziende. Aveva due piani e in totale dieci stanze. Quindi non poteva assolutamente fare a meno di una donna delle pulizie. Nelle conversazioni con gli amici. Lev ammetteva apertamente il suo infantilismo domestico. Non so fare un bel niente. Investire soldi in modo redditizio, per favore. Lavare i fornelli dal grasso e non bruciare la pasta è al di sopra delle sue forze. Quindi delle faccende domestiche si occupava Galina. Una donna di 60 anni. Per età, vicina alla sorella maggiore di Lev. Tra loro erano semplicemente Galina e Leva. Così era andata fin dall'inizio. Lev trattava la governante con rispetto e non la chiamava in altro modo che padrona. Lei, ovviamente, si rifiutava. Leva, quale padrona? Sono solo una serva. E che serva sei? Chiese Lev. Se non ci fossi tu, la mia casa sarebbe in rovina. E chi la mantiene, se non la padrona? Quindi. Ho dovuto chiamare Galina. Lev si scusò di cuore al telefono, ma la donna si rifiutò. Leva, lo sai che vivo da sola, con un cane. Cosa ho da perdere? Arrivo presto, aspettami. E porta anche la cialda. Così si chiamava l'espressivo schnauzer marrone che lo stesso Lev aveva regalato a Galina per il suo compleanno. All'epoca, ovviamente, lei aveva fatto un gran baccano. Cosa ti è saltato in mente? Perché mi serve un cane? E poi si era innamorata del cagnolino, come di un figlio. Non lo prendo, altrimenti non mi farà più entrare in casa. Galina sbuffò allegramente e riattaccò. Ottimo, pensò Lev. Alla fine, lui sapeva meglio come trattare i bambini. Come si scoprì, Lev aveva un'idea vaga della cura dei bambini. Tutto finiva con qualche rimedio preistorico. Respirare sopra le patate, bere latte con miele. Probabilmente non erano così male. Ma forse c'era qualcosa di più efficace? Lev, in virtù del suo status nella medicina tradizionale, per dirla tutta, non si fidava molto. Così, lungo la strada, decisero di fermarsi in farmacia. Peccato che il farmacista non fosse un dottore. La gentile e primurosa donna gli diede un sacco di medicine che avrebbero dovuto servire per tutto. Ma Lev non sapeva come usarle. E quindi, da fuori, sembrava comico. Un uomo grande e massiccio si sedette sul divano e si circondò di foglietti con le istruzioni. Rita gli sedeva accanto. «E noi abbiamo l'albero di Natale?» chiese all'improvviso la bambina. Lev si morse il labbro. Anche se Rita non vedeva niente, non voleva ingannarla. Quest'anno non si era occupato dell'albero di Natale. Tutta quella paccottiglia gli ricordava ancora di più che era solo. «No, non abbiamo l'albero di Natale. Ma credo di avere una ghirlanda». Con un sorriso imbarazzato, Lev disse questo, agitando un'enorme quantità di foglietti delle medicine. Rita ridacchiò piano. Ma, se ci pensi, c'è qualcosa di davvero anormale in tutto questo. Rapire una bambina in centro città, andare per negozi, vestirla e poi portarla a casa per curarla. Lev pensò che avrebbe dovuto contattare qualcuno della polizia. Aveva delle conoscenze anche in questo campo. «E che è una buona idea». Concluse ad alta voce. Rita si scosse. In generale, il suo atteggiamento era simile a quello di un passerotto, un piccolo uccello dal becco giallo ancora tutto da spennare. «Ho fame», rispose la bambina esitando un po'. Lev si diede una pacca sulla fronte in modo teatrale. «Ma certo. Perché sono un tale asino. Se la bambina ha davvero vissuto tutto questo tempo per strada, è ovvio che non si è nutrita normalmente. Oh, sì, scusa, non so cucinare molto bene. Vuoi un panino per ora?» Sembrava una schifezza. Ma era l'unica cosa che Lev sapesse fare da solo. Anche con le uova strapazzate aveva un rapporto pessimo. Concludendo che era meglio un panino che niente, Lev andò in cucina. Rita era ancora seduta sul divano in soggiorno. Si orientava abbastanza bene nello spazio per essere una bambina cieca. Ma un ambiente sconosciuto la spaventava molto. In un posto così, neanche una persona vedente avrebbe potuto rilassarsi subito. E lei, tanto meno. Lev. Si sentì dal corridoio. Davanti all'ingresso c'era un piccolo disimpegno, dove Lev di solito si toglieva le scarpe per non portare sporco e neve in casa. Lì di solito lasciavano anche il cane prima di lavargli le zampe. E Galina aveva l'abitudine di gridare in tutta la casa. Lev sorrise. Questo aggiungeva un po' di calore a Anatoli. Lo faceva sua nonna, sua madre, sua sorella. Perciò non aveva mai chiesto di smettere. A dire il vero, questa volta aveva fatto cadere la salsiccia sul pavimento e aveva imprecato. Ma vabbè, poteva lasciarla, il cane l'avrebbe finita. Qui, Galina. Qui. Lev si asciugò in fretta le mani con l'asciugamano e uscì dalla cucina. Galina era già in soggiorno, con il cappotto gettato su un braccio, e guardava la bambina con sorpresa. Galina conosceva tutte le nipoti del capo. Tra loro non c'era quella bambina, perciò al posto di un saluto chiese ingenuamente, e questa chi è? Galina, questa è Rita. Intervenne Lev. Devo dirti una cosa. Sì, dai, sbrigati. Sbuffò ingenuamente la governante. Come se bastasse lasciarti solo per mezza giornata, e guarda un po'. Lev portò Galina in cucina, dove le raccontò tutto. La donna ascoltò attentamente e non lo interruppe mai. Quando il racconto giunse alla fine, Galina si avvicinò pensierosa al frigorifero e iniziò a cercare qualcosa lì dentro. «Mi condanni?» chiese direttamente Lev. «No, certo», rispose la donna. «Chi mai darebbe dei panini a una bambina? Ora le faccio un pollo arrosto, stufato con un po' di carne. Perché tutta questa roba secca mi ha stufato. Non riesco a fartela togliere, e adesso ci metti anche la bambina». L'uomo sospirò con sollievo. Non che avesse bisogno dell'approvazione di un'estranea, ma in momenti come quello si ha voglia di ricevere un po' di sostegno. È importante rendersi conto di aver fatto la cosa giusta. «E come facciamo con i documenti?» chiese Galina. «Non sono un'esperta. Ma probabilmente bisogna fare qualche tipo di procedura. Me ne occuperò io. Chiamerò i miei contatti per accelerare la pratica». «Va bene, Galina a noi, l'importante è che non portino la piccola in un orfanotrofio mentre si fanno le pratiche. Scommetto che ha già sofferto più di noi». Sì, proprio per questo Lev aveva deciso di usare le sue conoscenze personali. Compose il numero del suo avvocato, immaginando già che Anton fosse un professionista in queste questioni e non si sbagliò. «Ma che bel rompicapo mi hai dato per festeggiare», brontolò Anton dall'altro capo del telefono. «Ma vabbè, non abbiamo risolto cose peggiori. Se è davvero una trovatella, nessuno ha denunciato la sua scomparsa. Quindi possiamo considerarla abbandonata. E tu puoi fare in modo che rimanga a casa tua durante tutte queste procedure e la trafila per l'adozione?» Ci fu un momento di silenzio al telefono, Anton stava riflettendo. «Teoricamente dici che è ipovedente? A me sembra completamente cieca. Sono cavilli medici, bisognerebbe farla visitare. In tali situazioni non amano prendersi cura di bambini come questi. Quindi c'è la possibilità che per il tempo della procedura possa comunque rimanere da te. Mandami». Lev fece cadere il telefono di Galina, che stava mescolando le verdure. Tutto perché dalla stanza accanto si udì un urlo straziante della bambina. L'uomo e la donna si alzarono di scatto e corsero dalla piccola Rita. Si è scoperto che non era successo niente di terribile. Vafele, che evidentemente era stanco di stare in corridoio, si era intrufolato in casa senza vedere la bambina. Il cane amava moltissimo i bambini, per abitudine si precipitava ad accarezzarli. E Rita impaurita si accucciò su se stessa, come se di fronte a lei non ci fosse uno schnauzer piccolo, ma un enorme lupo. «Rita, va tutto bene, sono qui». Lev in due passi attraversò la stanza e si sedette accanto alla bambina. Immediatamente si strinse al forte petto maschile e iniziò a piagnucolare piano. «Ma scalzone!» esclamò indignato Galina. «Chi ti ha permesso di entrare in casa con le zampe sporche? E hai anche spaventato la bambina. Senza di te questa faccia mi guarda negli occhi». Vafele divenne tre volte più piccolo, il che sembrava impossibile per un cane di piccola taglia. Abbassò lo sguardo vergognosamente a terra e, quando Galina calpestò anche lui, se ne andò tristemente nell'anticamera. «Ecco un tippista!» Galina era ancora furiosa. «E come ti senti, mio sole?» Galina emanava un'aura così gentile e piacevole che Rita si avvicinò fiduciosa a lei. Lev ha detto più di una volta che Galina non ha voluto in vano avere figli in gioventù. «Sarebbe stata una madre meravigliosa!» «Non aver paura di lui!» disse Galina, accarezzando la bambina sui capelli arruffati. «Non fa paura! Se lo vedessi, non ti spaventeresti mai!» Un'espressione del genere, probabilmente, potrebbe offendere un adulto, ma non un bambino. Rita si affezionò a Galina, quindi molto piano, a malapena udibile, rispose solo a loro due. «Ho paura!» «Divafele, ah!» risse Galina. Lev le lanciò un'occhiata, ma lei non se ne accorse nemmeno. «Sì, non può nemmeno afferrare una mosca, figuriamoci te!» «Non divafele!» sussurrò la ragazza ancora più piano. Lev si irrigidì. Sentì che tra loro all'improvviso si era teso un sottile filo di fiducia. «E ora, forse, conoscerà la storia di questa piccola bambina sfortunata». Ed è così che è successo. E Rita iniziò un lungo racconto. «Stai parlando seriamente?» Lev Annouy. Era seduto nell'ufficio del suo avvocato. Per il bene di Lev, Anton ha persino accettato di uscire l'ottavo per lavoro, anche se non aveva intenzione di farlo. Questo è il vantaggio degli specialisti privati altamente retribuiti. Possono lavorare come vogliono e non perdere soldi. Vuoi dire che i suoi genitori la stavano prendendo in giro? «Non ho motivo di non credere a Rita», rispose direttamente Lev. Ha detto che viveva con i suoi genitori fuori città. «Sembra, come ho capito, non persone povere. Hanno una fattoria, galline, maiali, cinque figli oltre a Rita. Ma ecco, lei è l'unica con un difetto. Pensa un po', sbarazzarsi di una ragazza perché è cieca? E un casino», ha risposto Anton. «In cosa si stanno trasformando le persone di Lev? Ho capito che non si sono sbarazzati di lei». Ha obiettato l'uomo. Ma non la amavano neanche. La madre la chiamava costantemente una scroccona e la costringeva ad aiutare in casa. E in una famiglia con molti bambini, la responsabilità è distribuita in base all'età. Di conseguenza, sia la madre che i più piccoli l'hanno usata. Incubo. Anche un bambino sano non è in grado di svolgere il lavoro domestico. E lei? È scappata. Un cane, che avrebbe dovuto nutrire, si è lanciato contro di lei, ma aveva paura come il fuoco. Quasi non l'ha morsa. La ragazza si spaventò e si nascose in macchina. Quando siamo andati in città, è scappata. Non conosco i dettagli, lei non parla. Non pensi che qualcuno l'abbia aiutata? Anton ha chiesto con dubbio. Sembra inverosimile. È salita da sola, è scappata da sola quando ha capito che era ancora una bambina cieca in città. Lev. Lev si aspettava questa domanda. In realtà, la ragazza gli ha raccontato una storia completamente diversa. Una storia che nessuno conoscerà mai. Allora Lev decise che avrebbe fatto di tutto affinché la ragazza non tornasse mai più da quelle persone terribili con cui viveva. Anche se la sua versione della storia non era la più plausibile. La cosa principale è che le autorità ne abbiano abbastanza per registrare il bambino a suo nome. Pagherà per il resto, quanto basta. Di cosa ha detto direttamente ad Anton? Sì, certo, in una storia interessante è entrato Lev. Anton rispose distrattamente. Va bene, la legge sarà probabilmente dalla tua parte. Nessuno restituirà il bambino ai genitori che gli hanno permesso di stare al freddo per diversi giorni e di dormire sui tubi del riscaldamento. La ragazza dovrà incontrare un rappresentante della tutela e uno psicologo infantile. Va bene se i medici hanno registrato le tracce della sua permanenza per strada. Registrato. Lev interruppe. Oggi Galina è andata con lei in ospedale. Lì la visitarono e notarono il congelamento e i lividi. Due ematomi. Anton sollevò lo sguardo in modo espressivo, ma non disse nulla. Dopotutto, lui è un semplice esecutore. Allora domani ti chiamo, sistemo tutto, ma considera che la bambina è già tua. Faremo domanda per la quota? Quota. Si meravigliò Lev. Beh, è cieca, ha bisogno di cure complitte. Si possono ottenere soldi dallo stato per lei. Una procedura standard per i bambini disabili. Mi darò da fare, sarà più veloce. Lev rifletté sul perché gli servisse una quota. Il destino aveva disposto così, aveva portato quella bambina da lui. E non in un giorno qualunque, ma a Natale. Avrebbe potuto trovare un segno più chiaro e comprensibile? Lev non era un uomo povero. Forse era proprio per questo che la bambina si era ritrovata accanto a lui. Non serve una quota, mi prenderò io cura di tutte le spese. Anton fece roteare pensieroso una matita tra le mani, ma sorrise. Lev era un uomo dall'animo buono. E questo fatto non poteva essere smentito da nessuna difficoltà. Chi altro avrebbe accolto così facilmente in casa un bambino estraneo? Sembrava che nella vita del suo cliente e amico fosse finalmente apparso un senso. Va bene, Anton, me ne vado. Devo ancora andare a prendere Rita e Galina dall'ospedale. Dovrebbero essere già libere. Gli uomini si strinsero la mano e si salutarono. L'autista aspettava Lev e insieme andarono all'ospedale pediatrico. Lev non avrebbe mai pensato di trovarsi in un posto del genere così presto. A dire il vero, non aveva mai pensato che avrebbe avuto dei figli. Galina si era presa bene cura di Rita, anche se solo per un giorno e mezzo. E Lev decise che non avrebbe trovato una tata migliore. Prese entrambe vicino all'ospedale e, tra il cinguettio dei bambini, tutti andarono a casa. «C'è tanta neve, Rita!» diceva Lev, facendo scendere delicatamente la bambina dalla macchina. «Vuoi che giochiamo agli angeli di neve? Posso?» sussurrò la bambina con ammirazione. «Certo!» Istanbul si precipitò subito nel vortice. Il primo spavento era passato e la bambina, anche durante la notte, si era abituata al cane, lo aveva lasciato dormire nella sua stanza. E dietro la recinzione, in quel momento, c'era una bassa bionda. Non osò avvicinarsi. All'improvviso qualcuno l'avrebbe vista. Il suo piano aveva funzionato. La bambina era stata presa da un uomo buono e ricco, non si poteva desiderare di meglio. «Buona fortuna, figliola!» sussurrò e non riapparve mai più nella vita di sua figlia. In effetti, quella bambina aveva smesso di essere sua da molto tempo. Se non fosse stato per la pressione dei genitori, avrebbe rinunciato a sua figlia quasi subito. «Ma no, non si può, è la tua croce e devi portarla per tutta la vita». E lei aveva solo vent'anni. Dove sarebbe andata, da sola, con una bambina disabile? I suoi genitori non si erano fatti avanti per prendersene cura o mantenerle. Sì, chiunque avrebbe potuto dire che era una persona venale. E allora? Chiamatela pure così, ma bisognava pur mangiare qualcosa. Una bambina disabile aveva bisogno di una badante speciale e di tante altre cose. E lei aveva solo vent'anni. Voleva vivere. E non poteva dare nulla a sua figlia. Niente di buono. Perché soffrire entrambe, se ognuna poteva avere una seconda possibilità nella vita? Con quell'uomo buono, Rita sarebbe stata meglio. L'aveva circondata di tante cure e attenzioni che persino lei, la madre naturale, non aveva potuto dare alla bambina con tanta fatica. E forse, forse sarebbe stato meglio per tutti. Forse se ne sarebbe pentita un milione di volte, ma in quel momento la donna si voltò e con il cuore leggero andò verso una nuova vita. E Rita? Rita aveva finalmente un padre, che non aveva mai avuto, e si rivelò più affettuoso di qualsiasi madre. Chi ha ragione e chi ha torto? Non spetta a noi giudicarlo. L'importante è che sulla bambina si sia accesa la sua felice stella di Natale. La di Natale. La di Natale. La di Natale. La di Natale.